Abbiamo ancora negli occhi le immagini dell'arresto di quel giovanotto non so come definirlo è un nazischino in realtà di quel bullo di macerata il quale certo signor Traina il quale si arma e all'impazzata in giro per la città va a sparare agli immigrati dirà senza alcun pentimento volevo farli fuori questi immigrati che hanno ucciso Pamela quella ragazza che hanno trovato fatta a pezzi in due valigie e dice avrei voluto andare poi anche in tribunale là dove c'era il presunto assassino di Pamela e dice avrei voluto sparargli là in tribunale i giudici ci stanno ancora dicendo se dietro questo grave crimine sia Pamela sia stata al di là del vilipendio del corpo sia stata realmente uccisa o se non sia stata o se non sia morta di overdose rimane il fatto che l'episodio è drammatico bestiale comunque siano andate le cose e drammatico e bestiale rimane il fatto che un cittadino privato dica adesso mi sostituisco alla giustizia e con un atteggiamento generalizzato di odio verso l'immigrato vado in giro per la città a far fuori tutti gli immigrati vorrei partire da prima di tutto da una considerazione che mi sembra fondamentale le generalizzazioni sono sempre grandi forme di razzismo mimetizzato se voi dite che i preti sono tutti pedofili ed è un discorso che sentiamo in giro è una forma di razzismo perché vuol dire che io colpisco una categoria io vi assicuro che non lo sono ma nel momento in cui si fa una generalizzazione si tira dentro quel 99,9% che è innocente e lo si colpevolizza se noi diciamo che i politici sono tutti ladri forse ce ne sarà qualcuno ma generalizzare ricordiamolo sempre è una forma di razzismo se noi diciamo che i giovani sono tutti lazzaroni delinquenti è una forma di razzismo sottile perché noi andiamo a coinvolgere tutti e i tanti buoni i tanti onesti e i tanti bravi vengono coinvolti nel mucchio di chi sbaglia questo è un principio culturale che non dobbiamo mai dimenticare ma non solo perché siamo dei cristiani come cittadini come cittadini noi dobbiamo incontrare le persone e dire questa persona è di valore e pur essendo magari nella stessa famiglia dire quella è un po' meno di valore ma non perché le persone non abbiano valore ma perché noi non possiamo mai mettere nell'unico calderone del qualunquismo generalizzante ho fatto questa premessa perché non possiamo dire tutti gli immigrati meritano di morire tutti degli immigrati sono degli impostori tutti gli immigrati sono dei rubapane tutti gli immigrati sono dei terroristi ci sarà ci sono anche tra gli immigrati coloro che sbagliano ma ci sono anche dei buoni ci sono persone che creano reddito per il nostro paese ci sono persone che hanno la loro famiglia che vivono in pace come tutti noi nei giorni scorsi abbiamo ricordato Santa Giuseppina Bachita questa bambina sudanese venduta più volte come schiava poi portata come serva a Venezia dove diventa cristiana e dove scoprirà che il suo paron il Signore Gesù è un buono e imparando dal suo nuovo paron il Signore Gesù diventerà una grande santa della carità morendo nel 1947 a Schio tra le Canossiane noi oggi siamo tutti qua a ricordare a venerare una santa di colore nero diremo oggi una schiava portata qui allora questo per dirci che non possiamo mai generalizzare tornando al nostro caso di Macerata avete sentito che dopo questo fatto giustamente la politica si è dissociata tutti si sono dissociati si sono fatti grandi proclami di di tolleranza che dobbiamo essere buoni che dobbiamo essere tolleranti che dobbiamo su che dobbiamo giù in realtà amici cari il caso di Macerata ha scoperto una parte dell'Italia e anche qua non generalizziamo ma ha scoperto una parte dell'Italia il signor Traina che non è per nulla pentito il signor Traina di chiare come dire di chiare gusti nazi fascisti è stato portato è stato portato in carcere ed è stato portato in carcere tra grandi applausi dei carcerati italiani che l'hanno accolto come un eroe direte voi eh ma sono carcerati questi e gente con il pelo sullo stomaco no no all'avvocato del signor Traina stanno arrivando le telefonate di molti italiani che stanno dicendo come possiamo aiutare a pagare le spese del signor Traina è questo che a me fa paura e preoccupa perché vuol dire che andiamo verso una fascistizzazione degli stili di vita la parola impegnativa lunga e noiosa non sto dicendo che stiamo arrivando di nuovo al fascismo sto dicendo che lo stile sta diventando lo stile tipico della violenza nazista e fascista quando un paese dice noi siamo disposti a pagare le spese di questo signore che è andato in giro a sparare per ammazzare i profughi vuol dire che c'è una parte dell'Italia e ripeto non generalizziamo che crede che siano questi i metodi per risolvere i problemi è vero che il problema dei profughi domanda delle risposte dalla politica domanda delle risposte più serie perché avvenga davvero un'integrazione domanda delle risposte di ordine pubblico nell'allontanamento di chi non ha diritto a rimanere domanda risposte dall'Europa la quale deve accollarsi e spartire le fatiche di questo fenomeno ma noi non possiamo permetterci che ci sia un'Italia che sta masticando la voglia di rifarsi facendo fuori gli immigrati questa è fascistizzazione culturale questo vuol dire che noi siamo per i metodi in cui se tu non sei dei nostri se tu sei percepito come un peso allora noi ti facciamo fuori ma 80 anni fa erano gli ebrei che erano percepiti come un peso sociale e si inventarono le leggi razziali 80 anni fa erano gli omosessuali che erano avvertiti come un peso sociale e sappiamo che fine gli facevano fare 80 anni fa erano gli zingari che erano percepiti come un disagio sociale e sappiamo come li hanno trattati inutile che ce lo nascondiamo perché poi il politicamente corretto in televisione sulla bocca dei politici no come quando aggrediscono la signora Boldrini la presidente della camera dei deputati che a dire il vero non fa molto per rendersi simpatica ma poi quando vediamo le vignette che la ghigliottilano che vediamo che vogliono tagliarle il collo allora tutti i partiti politici a fare gli indignati ad esprimere solidarietà ma poi cosa si racconta nei salotti dentro le case ai tavoli del bar cosa si racconta nei momenti di intimità quando si dice sì i profughi bisognerebbe buttarli tutti fuori ah sì quando si sente che alcuni di loro sono finiti in fondo al mare beh si dice con un po' di sollievo da parte di alcuni loro hanno finito di tribulare ma ci hanno tolto anche un peso perché poi è questo il linguaggio che fascistizza l'Italia è questa cultura dell'intolleranza che sta introducendo l'idea che oggi non abbiamo più gli ebrei oggi abbiamo i profughi e quando mi si scrivono le lettere dicendo si condanni e non si tolleri che gli omosessuali manifestino a Trento torniamo indietro di 80 anni è questa la fascistizzazione del paese allora noi cristiani non possiamo permetterci di adottare la cultura della violenza e dell'intolleranza i problemi ci sono i problemi ci sono ma quando Gesù dice qualunque cosa tu hai fatto al più piccolo dei miei figli l'hai fatta dei miei fratelli l'hai fatta a me il Signore non dice l'hai fatta a quelli bravi l'hai fatta agli italiani l'hai fatta a quelli che andavano in chiesa l'hai fatta a quelli che votavano moderato l'hai fatto su l'hai fatto giù l'hai fatto a una creatura umana e sappiamo che i profughi creano problemi e sappiamo che tra i profughi ci sono dei bastardi passatemi la parola non sono un buonista io e voi lo sapete e mi conoscete ma noi non possiamo permetterci che la cultura della violenza sia la risposta ai problemi della storia grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.